Riprenderanno mercoledì i lavori in corso Cairoli, il secondo lotto che si occuperà non solo del rifacimento del manto stradale, ma anche della sistemazione della rete dei sottoservizi, gas, acqua e fognatura. Questa seconda parte di interventi riguarderà in particolare il tratto compreso tra via Brugnatelli e piazza Collegio Cairoli. La ripresa del cantiere comporterà una modifica della viabilità della zona con l'istituzione del senso unico in corso Cairoli, da via Brugnatelli all'intersezione con via Santa Maria alle Pertiche. In questa zona è previsto il posizionamento di tre posti di sosta regolamentata a disco orario di 30 minuti e un'isola ecologica per il conferimento dei rifiuti. Non cambierà invece l'attuale senso unico in via Brugnatelli ed il doppio senso istituito nel tratto compreso tra piazza Collegio Cairoli e piazzetta San Francesco. Nel tratto di corso Cairoli, compreso tra la piazza del Collegio e via Carpanelli, è prevista inoltre l'istituzione di nove posti di sosta regolamentata, sempre con disco orario di 30 minuti e un posto per il carico e lo scarico merci, nonché un'isola ecologica. Per aiutare il commercio della zona saranno sistemati i cartelli con le indicazioni dei negozi rimasti nascosti a causa del cantiere. A settembre infine si procederà con il terzo lotto dei lavori.